La Fondazione Accademia Mediterranea per l'energia e la sostenibilità è un'iniziativa che nasce su input della Commissione Europea, viene costituita dal Consorzio Interuniversitario Nazionale INSIEL, che sta per l'energia e sistemi elettrici, e dalla Società Bonifiche Ferraresi Energia. È un'iniziativa che tende a medicare quelle che sono le differenze, soprattutto dal punto di vista della conoscenza, della formazione tra sponda nord e sponda sud del Mediterraneo. L'Italia è un hub energetico, così come viene anche dichiarato nel PNEC, un hub energetico per il Mediterraneo. Questo è fondamentale per l'Italia, ma ci carica anche di responsabilità. Non a caso la Commissione ci chiese di realizzare un'iniziativa che puntasse a medicare quelle che sono le criticità per la realizzazione di un sistema energetico integrato a livello europeo. Quindi integrato significa soprattutto integrare le conoscenze, condividerle e condividere i punti di vista anche con questi paesi, soprattutto anche dal punto di vista regolatorio e non soltanto dal punto di vista tecnologico. Quindi la fondazione si pone proprio questo come ruolo. Sicuramente le risorse umane e la formazione delle risorse umane è fondamentale da questo punto di vista. Quindi per noi come fondazione ha grande importanza la formazione dei giovani e non solo, ma anche la formazione nel tempo anche dei tecnici, l'upgrade in pratica di conoscenze di queste risorse. E quindi per questo noi possiamo contare come fondazione su un sistema universitario italiano molto importante costituito da 30 università che lavorano nel campo dell'energia elettrica e anche negli altri settori ovviamente dell'energia con oltre 400 ricercatori. Questo significa avere una capacità non solo formativa ma anche di ricerca per cui possiamo affrontare queste sfide attraverso la fondazione con capacità sia quantitativa che qualitativa.